Attenzione al grande fratello VIP, signori, perché abbiamo una situazione incontenibile, nel senso che sono tutti preoccupati perché, avete visto l'immagine di Copertina, sembra un far west generale, tutti con la bandana, con la mascherina, insomma ci sono dei sintomi, quindi sappiamo a che cosa andiamo a parare. Sono infatti ore di apprezzione nella casa più spiata d'Italia da quando alcuni vipponi, mica tutti, sono risultati positivi al tampone covid, ai 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 ai, perché la prima ad accusare i sintomi è stata Patrizia Rossetti, che sabato ha dovuto abbandonare per forza di cose la casa, per problemi di salute, e in particolare ha riscontrato febbre alta. Ha detto, cioè ha detto, non l'ha detto lei, è stato detto, per ragioni di salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la casa del GF VIP, rientrerà nella casa, lo farà, sì, non adesso, appena possibile. Questo si leggeva sul post della produzione del GF, preso d'assalto dai fan del volto di Rete4 con dei vari commenti, no, vari commenti di buona guarigione. In serata poi si è scoperto appunto il motivo dell'abbandono, si doveva certo indagare su cosa avesse portato a tutto questo, e dopo la conferma dell'arrivo del maledettissimo covid, i casi sono purtroppo aumentati. A seguito di controlli medici, è stato detto, l'ha detto quello di prima, Patrizia Rossetti è risultata positiva. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti, e i risultati hanno purtroppo evidenziato al momento altri tre casi di positività. Luca Onestini, adesso ho spuntadino, Charlie Gnocchi, Attilio Rominda, che sono tutti, tutti, tutti in buone condizioni, sono stati però certo isolati, lasciando momentaneamente la casa per sicurezza, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. Quindi come al solito, vari controlli per cercare, insomma, di isolare la situazione. E questo si è letto sui social. Poi, a seguito della positività al covid, il televoto al GFVIP è stato annullato, questo di conseguenza. I nomination, vi ricordate, no? C'erano Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Vilma Goic e George Ciupilan. Positiva anche Pamela Prati, pensate un po'. E dopo la positività nella casa è scoppiata la paranoia totale. Oddio, mo ce l'ho pure io, tutte ste cose così. E Sara Altobello ha tossito, mentre lavava i piatti. E Alberto De Pisis hanno detto di non sentirsi bene andando a confessare di aver paura di poter avercelo anche loro. Stessa situazione, idem con patate, per Daniele Dal Moro, che ha chiesto ai coinquilini di stare assolutamente lontano, per sicurezza, in questi giorni. E sta usando, appunto, una benda come mascherina, come vi avevo fatto vedere dall'immagine di copertina. Insomma, situazione non proprio ottimale, ma credo sia abbastanza precaria. Sicuramente tornerà alla tranquillità entro pochi giorni, anche perché se vedono che sintomi comunque non ne hanno realmente, allora dovrà per forza tornare tranquilla la situazione. Vedremo, ne riparleremo sicuramente. Max per ora vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto di questo video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, tanto è gratis. E altrimenti, se parliamo di FB, potete seguire la pagina, diventeremo sempre più follower, mi raccomando. Ciao raga, buona giornata a tutti.